numero 5 questo barattolo contiene tre palline da paddle di colore giallo pressione all'interno del barattolo per un'ottimale conservazione del contenuto le palline da paddle danno la massima precisione controllo su ogni campo il nucleo rinforzato offre una maggiore durata in descrizione trovi il link di questo prodotto numero 4 questa confezione comprende tre barattoli ciascuno con tre palline da paddle di colore giallo le palline sono realizzate in feltro di alta qualità in lana naturale al 45 per cento confezionate a pressione per una lunga durata fino alla prima apertura adatte per tutti i campi di paddle ottimo rapporto qualità prezzo in basso nella descrizione del video trovi il link del prodotto numero 3 tre barattoli contenenti 9 palline da paddle di colore giallo ottimo rapporto qualità prezzo ideali per ogni tipo di campo queste palline offrono precisione controllo durante il gioco grazie al nucleo rinforzato progettate per durare a lungo eccellente resistenza trovi il link di questo articolo in descrizione numero 2 questa confezione contiene tre palline da paddle di colore giallo dal design ergonomico realizzate in materiale resistente di ottima qualità il feltro a bassa compressione diminuisce il rimbalzo performance ottimale su campi con meno sabbia la linea x3 di wilson ideata per poter offrire un equilibrio ottimale di consistenza durabilità e facilità di gioco porta le prestazioni delle palline da paddle a un livello superiore queste palline sono ideali per superfici da gioco veloci ottimo articolo puoi vedere il prezzo di questo articolo cliccando nel link in descrizione numero 1 set di tre barattoli contenenti palline da paddle di colore giallo nucleo esclusivo per alte prestazioni con una resistenza superiore per la massima durata queste palline sono ideali per competizioni campionato e allenamento ottimo articolo se vuoi conoscere il prezzo di questo prodotto clicca il link in descrizione di questo articolo se vuoi conoscere il prezzo di questo articolo